Diciamolo con chiarezza, ciò che sta accadendo a Bari dopo l'elezione del sindaco Vito Leccese è uno spettacolo in molti passaggi addirittura indegno. Nessuna sorpresa, anche il più politicamente sprovveduto, aveva chiaro che la fusione a freddo dopo il ballottaggio tra il vincente Leccese e il perdente La Forgia, invece che rafforzare la coalizione l'avrebbe balcanizzata e così sta accadendo. Le difficoltà nel mettere insieme uno straccio di giunta. La polemica continua con lo schizofrenico Movimento 5 Stelle che riversa sull'amministrazione i suoi problemi interni e i complicati rapporti con i vertici romani, per non parlare del braccio di ferro all'interno del PD sui componenti da inserire nella giunta. E ora la lite sul presidente del Consiglio Comunale, con la contrapposizione tra Romeo Ragneri di Con e Marco Bronzini del PD vicino all'onorevole Marco Lacarra, la cui componente appare al momento sottodimensionata rispetto ai voti portati e ai consiglieri eletti. Per non parlare delle prime defezioni con Livio Sisto, eletto addirittura nella lista Decalo per Bari, passato a Forza Italia, immaginiamo, dopo una profonda riflessione sotto la calura estiva, per cui decidere che essere il primo zompafosso e volta gabbana della consigliatura resta comunque un modo per essere ricordato. La maggioranza bulgara conseguentemente anche ieri non ha eletto il presidente. Il prossimo tentativo è previsto tra dieci giorni avere seri dubbi e legittimo, vista l'immagine indecente che stanno dando senza rendersi conto dei danni che stanno provocando anche in prospettiva futura, visto che l'elezione del presidente e la formazione della giunta sono il biglietto da visita di ogni nuova amministrazione e proprio ieri è stato confermato che il prossimo anno si voterà per le regionali. Ma gli affanni di Lecise non si fermano qui e curiosamente coinvolgono altri comuni, in questo caso Trani. Le due città sono socie direttamente o indirettamente della STP, Società di Trasporti, nel consiglio di amministrazione in quota barise, siede tra gli altri l'avvocato Angela Conserva, considerata vicina a sud al centro, la lista della consigliera regionale Anita Mauro di Noia, al centro di un'inchiesta giudiziaria su una presunta compravendita di voti per la quale la Mauro di Noia, indagata, si è dovuta dimettere da assessore e suo marito Sandro Cataldo è finito ai domiciliari oggi revocati. Volendo prendere le distanze dall'intero partito, Lecise ne avrebbe chiesto le dimissioni e una volta non ottenute si è rivolto al sindaco di Trani Amedeo Bottaro, cercando di ottenere le dimissioni dell'intero consiglio in modo da farla decadere. Un argomento che comunque sarà necessario approfondire. Al momento Bottaro ha risposto picche. Il problema riguarda la componente barese e quindi se la risolvessero a Bari in sintesi il suo pensiero molto napoletano. Le polemiche non mancano con le opposizioni tranesi sul piede di guerra ma anche loro napoletanamente soprattutto per fare a muina.